Non si è fatto quasi nulla, c'è una strategia pianificata di disinformazione perché il potere, quello che ha grandi interessi dal non far fare, dal non far raggiungere il quorum, pensate che dalla privatizzazione dell'acqua c'è un business di 64 miliardi di euro, dal nucleare di oltre 30, 100 miliardi di euro, ecco tutto pagato dalla tasca dei cittadini. E' chiaro che questa strategia pianificata di disinformazione ha una razza e la razza sono i soldi che verranno pagati gli italiani, ecco una grande reazione non può che non essere la mobilitazione che noi Verdi ad esempio stiamo facendo nelle piazze, nel web, attraverso i volatilaggi sulle metropolitane e sui treni. Purtroppo è rimasto questo e questo è un segnale di grande non democrazia che il servizio pubblico sta dando.